Qualcuno mi ha detto che la forza di stare da soli è la forza di prendere una posizione. Di servire uno scopo più grande di noi. Per il bene di tutti. Queste parole le porto con me, nella caccia, ovunque essa mi conduca. E ora le porterò con me, nell'Ovest Proibito. Grazie a tutti.